Una situazione disastrosa, quella della Aslo 1, denunciata dal PD all'indomani della mancata audizione del manager Ferdinando Romano, la capigruppo in comune, che era convocata per parlare dell'attacco ACAR. Ben 66 milioni di euro circa di passivo nel 2022, 124% in più rispetto all'anno precedente, che era di 21 milioni di euro circa. Il PD, con il capogruppo Stefano Palumbo, con il consigliere Stefano Albano, con il consigliere regionale Pierpaolo Petrucce, il segretario provinciale Francesco Piacente in collegamento, supportati, seppur non presenti da Eva Fascetti e Stefania Pezzopane, hanno tolto il coperchio alla pentola. Il 5 dicembre, hanno ricordati i presenti, è stata l'ultima occasione in consiglio comunale per parlare con il manager, ma le sue risposte anche sul bilancio sono state evasive e si capisce perché. Sale al 5 dicembre, l'ultimo consiglio comunale proprio convocato sul tema della sanità, l'ultima occasione che abbiamo avuto di confrontarci con lui, senza tra l'altro possibilità di contraddittorio, e ricordo come alla conclusione del suo intervento prima che andasse via, presi la parola per chiedergli a quanto ammontasse il debito dell'ASL. Lui fu molto evasivo e oggi, avendo a disposizione il bilancio, capisco il perché, perché la situazione è davvero drammatica. Si parla di una perdita dell'esercizio 2022 di 66 milioni di euro, cioè con un incremento di oltre il 126% rispetto all'anno precedente, dati sulla mobilità con un saldo negativo peggiorato del 75%, quindi con 16 milioni di disavanzo tra la mobilità attiva e quella passiva. È una situazione che conferma le criticità che tutti i cittadini e gli utenti riscontrano quotidianamente nell'erogazione dei servizi che sono latitanti e presentano delle criticità oggettive. Sono domande che rivolgiamo nuovamente a lui, ma a questo punto formalizzeremo la richiesta anche al sindaco attraverso un'interrogazione, visto che non lo risponde il manager, e chiediamo conto a chi ha la responsabilità politica insieme a Marsilio di averlo nominato. Se i debiti fossero per gli investimenti sarebbero quasi giustificabili, hanno precisato i DEM, insistendo sulle dimissioni del manager romano e dell'assessore alla sanità Nicoletta Veri. Per la politica c'è anche questo dato, il fallimento completo dell'aggiunta Marsilio.